Ciao a tutti amici creativi! Se amate gli elastici e adorate le pisla questo progetto è quello che fa per voi e se seguirete il tutorial che fra qualche secondo andrà in onda ricordatevi di mandare una foto di quello che riuscirete a realizzare alla mia mail oppure quando lo mettete sul vostro Instagram o sul vostro YouTube o i vostri social in generale ricordatevi che l'hashtag da seguire è hashtag lilla yt io andrò a pescare e nei vari video vi saluterò mettendo la vostra foto e sarà anche un pochino di ispirazione per tutti gli altri vi lascio subito al tutorial vi lancio un bacio enorme e buon divertimento! Ciao! Per questo progetto ci serviranno delle pisla del colore che volete e degli elastici del colore che volete un uncinetto una molletta e un gancino AS o AC quello che avete la prima cosa da fare è prendere un pisla e un piccolo elastico lo schiacci e fai entrare la testa dell'elastico dentro la tua perlina spingerà finché non esce dall'altra parte e tirala a metà sarà pronto il tuo lavoro lo lascerai qui ne farai un certo numero quindi ci prepariamo un po' di perline schiacciamo l'elastico lo infiliamo dentro spingiamo finché non esce dall'altra parte voilà ecco me ne sono preparate un po' io ho deciso di usare due colori elastici blu nelle perline gialle ed elastici gialli nelle perline blu ora iniziamo la seconda operazione la seconda operazione consiste nel prendere la molletta ed un elastico lo prendiamo e lo mettiamo a 8 così sulla nostra molletta così ora prendiamo la prima delle nostre munizioni preparate per questo lavoro e la infiliamo da una parte e dall'altra in questa maniera e ora tenendo un pochino fermo l'ultimo che abbiamo messo tiriamo fuori l'ultimo capo e l'ultimo anche da questa parte e tiriamo un po' giù il lavoro io farò un colore così diciamo incrociato e allora vado a mettere il giallo questa volta metto il giallo e di nuovo avrò due elastici sulla mia molletta e per l'ennesima volta tirerò su l'ultimo e lo farò scavallare e da questa parte farò la stessa cosa lo vado a prendere e lo tiro su qui si viene a formare già la forma di una fila di perline ora tocca al blu ovviamente se voi avete usato mille colori va bene uguale l'importante è che ci siano sempre due elastici e tirate su quello più in fondo uno e due e voilà continuiamo facciamone tanti quanto è lungo il nostro polso lavoriamo ognuno nella propria casetta adesso io vado avanti fatelo anche voi ed eccomi qui ho lavorato un po' questo è il risultato che mi piace un sacco ne metto ancora un'altra insieme a voi metto un lato metto l'altro e tiro su da una parte e dall'altra lo faccio con le mani ma esattamente come prima si può fare con l'uncinetto e tiro un po' giù il lavoro in modo che si stabilizzi e ora passiamo alla chiusura per chiuderlo prendo un lembo da una parte o dall'altra è uguale e lo passo da una parte della molletta quindi ho tutte e due gli elastici da questa parte e quello più sotto lo passo sopra perché così si formerà il solito nodino e tiro un pochino questo lo fisso con la mia clip quindi lo tolgo dalla molletta fermo con la clip da questa parte e fermo anche i due elastici nel capo opposto mi prendo due elastici che mi erano avanzati dall'altra parte gli elastici con cui ero partita li fermo tac uno e aiuto mi sono incastrata e due ok ed ecco qui il bracciale è fatto proviamolo come al solito oddio telecamera stai ferma proviamolo come al solito e voilà a me piace tantissimo se anche voi piace ricordatevi di mettere un like al video e soprattutto di mandarmi le vostre foto che verranno pubblicate nei prossimi video un bacione a tutti e ciao ciao